A Roma e a un periodo di ricerca a Berkeley nel 1978 cominciò la mia esperienza come funzionario dello Stato. Allora c'era il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, che oggi sarebbe un pezzo, un dipartimento del Ministero dell'Economia, insomma la stessa cosa. E collaboravo anche con Federico Caffè. E in sostanza praticamente cominciarono ad arrivare dei funzionari del Fondo Monetario Internazionale e a sostituire alcuni di noi, tra l'altro compagnie completamente diverse dalle nostre. Ma non ne sapevano più di noi che bene o male avevamo vinto un concorso, avevamo studiato eccetera eccetera. E quindi cominciarono i primi attriti. Per farla breve io feci un'elaborazione di quello che sarebbe successo col famoso divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, che è l'antitrave di tutto quello che stiamo dicendo qui, cioè lo Stato che non chiede moneta ma in qualche modo si basa sui vincoli di portafoglio alle banche che devono assorbire i suoi titoli a bassissimi tassi di interesse, che è un po' quella stessa cosa che di mettere moneta, in un certo senso non c'è una grande differenza, ma che invece non ha più questa facoltà, rinuncia a questa facoltà e quindi si rivolge direttamente al mercato, che poi non è il mercato ma sono quelle 4, 5, 6 banche di interesse nazionale in via di essere privatizzate che ovviamente utilizzavano soprattutto un metodo ancora più drastico di quello successivo per far crescere in modo esorbitante i tassi di interesse. Cioè praticamente lo Stato chiedeva per esempio 5.000 miliardi, allora c'erano le lire, ve ne ricordate, chiedeva 5.000 miliardi, ne compravano 4.500 al tasso di quel giorno e per far assorbire gli ultimi 500 si faceva schizzare il tasso dell'interesse che praticamente arrivava a livelli insopportabili. Io feci i miei calcoletti, niente di straordinario, e arrivai a due conclusioni che furono oggetto di un mio documento al ministro e ce le dissi praticamente che con quel sistema nel giro di 6-7 anni il debito pubblico sarebbe raddoppiato e avrebbe superato il PIL e seconda cosa che avremmo spiazzato un'intera generazione di giovani e la disoccupazione giovanile in Italia sarebbe salita oltre il 50% nel giro sempre dello stesso periodo perché questi alti tassi di interesse avrebbero accorciato l'orizzonte degli investimenti delle imprese e quindi non avrebbero fatto assumere eccetera eccetera. Mi dissero che ero pazzo perché il debito pubblico non poteva mai superare il PIL perché sennò il sistema saltava e io gli dissi che se il debito era uno stock e il PIL era un flusso non era possibile questa considerazione e poi mi dissero che era impossibile che la disoccupazione giovanile aumentasse così anziché essi sarebbero intraprese una serie di misure di flessibilizzazione per consentire ai giovani di trovare lavoro. Il litigio aumentò enormemente e alla fine per farla breve me ne andai dalla pubblica amministrazione e tornai in parte negli Stati Uniti a Houston e poi feci delle altre cose in Italia. Nell'89 andavo a dei seminari, a degli incontri che erano organizzati dall'onorevole senatore Don Accaten e il quale pubblicava nella sua rivista Terza Fasi i miei articoli appunto su queste problematiche monetarie e una giornalista del manifesto, una certa Norma Rangeri, fece un articolo su di me scrivendo appunto che siccome il debito pubblico aveva superato il PIL quell'anno e la disoccupazione giovanile in Italia, record mondiale, era il 56%, c'era stato uno scuro funzionario del Ministero del Bilancio che l'aveva detto e che però invece che essere ascoltato era stato costretto ad allontanarsi. Questo creò un grande tafferuglio sui mass media al culmine dei quali mi scrisse un certo Giulio Andreotti che doveva fare il governo e mi disse caro Galloni vuoi collaborare per cambiare l'economia di questo paese perché c'era comunque qualcuno che non la pensava in modo allineato eccetera eccetera. e io ovviamente aderì entusiasticamente, mi mise a disposizione del suo braccio destro il quale mi chiese che ha già fatto per cambiare l'economia di questo paese avete capito di quale ministro sto parlando? No, molto simpatico con la persona fatemi finire il discorso, vediamo e gli dissi guardi lei si faccia dare il Ministero del Bilancio al prossimo governo e poi metta a me a capo della struttura, al resto ci penso io. E così fu. Mi chiamò, mi disse sono Ministro del Bilancio, vieni subito. Io andai là, non solo mi mise a capo praticamente di tutta la struttura tecnica del Ministero ma anche di un gruppo di 25 professori universitari di economia e cominciamo a mettere le mani alla famosa relazione previsionale programmatica che sarebbe come il documento di politica economica di oggi. La finalità di questa mia azione era quella di rallentare il processo che avrebbe portato all'euro cioè non che noi non volessimo quella percorso ma lo volevamo tempi diversi, adeguati alle esigenze dell'Italia anche di ristrutturazione e riconversione industriale in condizioni di sviluppo economico, non in condizioni recessive perché questo avrebbe fatto la differenza tra creare posti di lavoro buoni e invece perderli. Dopo qualche settimana che lavoravo a questo progetto successe cataglisma. la Fondazione Agnelli, la Confindustria persino telefonò all'allora Ministro del Tesoro Guido Carli, un certo Helmut Kohl io ero tutto sommato per quanto mi avessero messo a capo della struttura mi sentivo sempre un piccolo funzionario uno che studiava, uno che scriveva, uno che diceva le sue cose per carità però una telefonata su di me da parte di Helmut Kohl confermatami poi da pomicino mi sembrava una cosa esagerata e lui mi fece capire che non c'era più spazio per questo mio tentativo e io scrissi su un pezzettino di carta perché lui mi disse di non parlare perché c'era il microfono e gli scrissi ma per caso hanno telefonato perché così e così non è più possibile portare avanti questo discorso lui mi fece così con la testa, lo stacciò in mille pezzettini e lo buttò nel cestino allora praticamente callo di una catenna poi mi chiamò a fare il direttore generale al Ministero del Lavoro e lì iniziò poi un'altra esperienza di cui dovrò dire rapidamente perché c'entra con le tematiche di oggi prima volevo però sottolinearvi due passaggi che sono un po' più che aneddoti ero stato incaricato da una parte della democrazia cristiana e di prendere contatti con una parte del partito comunista per vedere, sono ritornato agli anni Ottanta se era possibile una linea di politica economica e monetaria diversa da quella accettata dall'establishment della stessa sinistra democristiana nel suo complesso la cosiddetta sinistra politica mentre invece la sinistra sociale, quella di Don Cattelli era contraria al divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia e tutto il resto e vedere se nel partito comunista c'era qualcuno che era d'accordo abbiamo fatto dei seminari prima abbiamo fatto dei seminari anche con un'altra rivista i seminari si chiamava, venivano altre persone molto modeste a vedere di che cosa si parlava uno si chiamava Mario Draghi, un altro era un certo Giulio Tremonti tutta gente piccolina e tranquilla poi dopo ha fatto carriera ma che cosa successe quando io presi contatto con questi del CESPE di cui poi il più rappresentativo era il professor Azzolini che un certo Carlo Azzeglio Ciampi telefonò a Berlue e gli disse che se si fosse andato avanti in quel discorso se si fosse parlando di moneta tutti i figli della nomenclatura comunista che stavano agli uffici di studi delle banche dovevano andare a casa quella fu la figlia di Banca poi c'è un po' da parte le mani, c'era Bianchi l'altro anello, perché significativo anche del discorso che sto cercando di fare è il seguente quando io entrai si, chiudo, chiudo quando io entrai lì al Ministero del Bilancio mi occupavo anche di studiare la società italiana e rilevai in una mia pubblicazione che c'erano questi sussidi di diciamo di queste pensioni di invalidità date in giro insomma erano superiori a qualunque logica e allora io denunciai questo fatto mi chiamarono a tantissimo livello e mi dissero che allora non rompere perché noi dobbiamo combattere il terrorismo qui se non rompiamo il cartello dei disoccupati nel mezzogiorno c'è un'alleanza possibile fra le Brigate Rosse che a nord hanno un accetto seguito e i disoccupati del sud e succede un disastro e io dissi va bene mi sembra un'argomentazione buona tre anni dopo divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia titoli del debito pubblico offerti direttamente al mercato per finanziare la spesa pubblica spesa per i disoccupati spesa per le pensioni di invalidità per rompere il cartello dei disoccupati finanziati come se fossero investimenti buoni o addirittura al 20% cioè a questo ha fatto esplodere il nostro debito pubblico che da una parte questa classe dirigente diceva che bisognava separare il potere dei politici dagli investimenti pubblici in realtà per indebolire il paese e dall'altra poi voleva finanziare spese assistenzialistiche ad elevatissimi tassi di interesse facendo esplodere il debito pubblico e da quell'errore che noi abbiamo pagato tutto il resto in termini di debito eccetera avrei da dire molte cose ancora su tutto il problema di quello che poi ho combattuto al ministero del lavoro contro la confusione fra flessibilità del lavoro che era necessaria e precarizzazione che ci ha rovinato ricordare in due battute anche che purtroppo fino agli anni 90 noi direttori generali potevamo prendere i ministri e sbatterli contro il muro se era necessario nell'interesse del paese e dopo di che siamo stati completamente emarginati e resi dei serbi da che eravamo cioè funzionari dello Stato ci siamo ritrovati a essere funzionari del governo tutto un altro film e per concludere perché è importante ricordare questa cosa io adesso ho scritto un libro che si chiama Chi ha tradito l'economia italiana che è stato appena stampato ne ho rivelato una coppia qui ai nostri ospiti però sono arrivato alla conclusione che anche se questa è l'uccisione di Moro si possa inquadrare nel tentativo di indebolire l'Italia perché sia Baffi sia tutta la sua scuola non è che non volevano l'Italia in Europa volevano l'Italia in Europa ma con tempi e modi possibili e che quindi questa Italia che produceva con questa sua industria con queste sue partecipazioni statali con questi suoi modelli alternativi faceva veramente paura e dava veramente fastidio sia tedeschi sia franceschi grazie